Inizia sin da bambino a recitare. Prima davanti ai microfoni del layering programmi destinati ai ragazzi. Poi nella prosa, sia in teatro che nei radiodrammi con la compagnia di prosa della RAI. Prevalentemente presso la sede di Radio Roma. Successivamente entra nel mondo del doppiaggio cinematografico all'interno nella cooperativa CDC. Dove diventa una delle voci giovanili prevalenti per doppiare giovani attori stranieri ed italiani. Come direttore di doppiaggio ha diretto tutti i film di Gigi Magni e quelli di Mario Monicelli a partire dal film Camera d'Albergo. I quali diventeranno due dei suoi più grandi amici. Nei primi anni 40 lavora anche davanti alla cinepresa in piccole parti. Girando in totale 5 pellicole. È stato sposato con la doppiatrice Serena Verdi Rosi. Dalla quale ha avuto un figlio. Francesco.